Progetti per la realizzazione di infrastrutture ed iniziative finalizzate all'inclusione sociale e alla coesione territoriale. Sono 82 progetti ammessi a finanziamento nella provincia salernitana, di cui due presentati dall'ASL di Salerno e ben 13 progetti presentati dai comuni del Vallo di Diano e inseriti nella graduatoria con sala consiglina che risulta il comune che, visto il progetto presentato, potrebbe ottenere l'importo più alto. 1.997.000 euro potrebbero arrivare a sala consiglina per la realizzazione di un hub culturale e sociale nel centro storico salese e precisamente a ridosso di Piazzetta Gracchi. Altra importante cifra è stata assegnata ai comuni di Casa al Buono e Buonabitacolo con un progetto che vede Casa al Buono come ente capofila per la realizzazione di interventi per favorire il miglioramento dei servizi sociali e sportivi. La somma a disposizione che i due comuni dovranno dividersi è di un milione di euro. A ciascun comune potrebbero quindi arrivare 500.000 euro. Per Casa al Buono l'amministrazione prevede l'effettuazione di lavori di adeguamento sul centro socio-culturale e il rifacimento del campo di calcetto. 500 milioni di euro le somme stanziate dall'Agenzia per la coesione territoriale per il programma di interventi con i progetti che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse al momento disponibili. Non solo i progetti di Sala Consilina e Casa al Buono presentato in forma associata con Buonabitacolo ma anche altri 9 comuni del Vallo di Diano rientrano nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento. Per i comuni di Sassano, Polla e Padula sono due progetti per ciascun comune presentati ed inseriti in graduatoria. A Polla potrebbero arrivare circa 955.000 euro per la realizzazione di due progetti, ossia lavori di recupero presso Palazzo Bagni per un importo finanziabile di 605.000 euro e il progetto Accogliere e Integrare che si vede riconosciuti 350.000 euro. A Padula in arrivo 888.000 euro circa per i progetti denominati Crescere insieme e al tuo fianco. A Sassano ammessi a finanziamento due progetti di 928.000 euro totali per la realizzazione di opere di adeguamento del campo sportivo e per il progetto Diamo un calcio alla diversità. Ammessi a finanziamento inoltre Montesano per 545.000 euro, Atena Lucana e Pertosa ciascuno 300.000 euro, San Rufo e Monte San Giacomo ammessi a finanziamento ciascuno per 299.000 euro, Sant'Arsenio che risulta inserito in graduatoria per un progetto di 249.000 euro. Tra i progetti presentati ed inseriti nella graduatoria a scorrimento, anche due proposte presentate dall'Aslo di Salerno per un totale di 2.500.000 euro.